Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gigliac, mi chiede di parlare del film del 2007, Juno, con grandissima sceneggiatura di Diablo Cody, quella sia sceneggiatura veramente ottima per la regia di Jason Reitman, un film indipendente che ha avuto però un grandissimo successo, un po' furbetto, l'ho riguardato per fare questa mini recensione, sinceramente mi garbava meno, quando l'ho riguardato sono riuscito a guardarlo con occhio più distaccato di quando lo vedi nel 2007 un altro paio di volte e ho trovato cose interessanti nella storia appunto di questa ragazzina, Juno, e a 16 anni praticamente che rimane incinta dopo l'unico rapporto avuto col suo amico Poli, e che cosa decide di fare? Lì per lì vuole abortire a tutti i costi, ovviamente decide di non dire un cazzo a nessuno, solo che poi non se la sente e decide praticamente di farla adottare a una coppia il bambino che deve nascere, inizia la nostra a cercare dei genitori che troverà probabilmente in questo Mark e Vanessa una coppia che sembra andare tanto bene che poi in realtà arriverà un certo tipo di scontro fino al finale, allora un film appunto che racconta la storia di una adolescente americana lo fa abbastanza bene, di sicuro anche questo non è il caporavolo che dicono assolutamente, però c'era un allora Lampage, adesso Elliot Page veramente in parte che riusciva a dare l'idea di questa ragazza sempre divertente, sempre in un certo senso alternativa a tutto quello che gli viene intorno e riesce a scrivere e avere dei dialoghi veramente ben azzeccati da Diablo Cody, in tutto questo la regia di Jason Reitman è veloce, è ritmata, riesce a farci entrare appunto nello spirito del film, che passa dal dramma alla commedia senza colpo ferire attraverso alcune sequenze molto riuscite come quella del ballo praticamente che è veramente bella e come tutto il finale che è riuscitissimo, per un film in un certo senso a tratti un po' retorico con questa logica appunto che vuole a tutti i costi per forza spingere sul pensiero della vita ad ogni costo, però per il resto il film riesce comunque ad essere interessante, il rapporto fra appunto la nostra Juno e l'ottimo cera che qui fa Poli è di livello, così come sono bravi gli altri attori, Jennifer Garner è un'ottima Vanessa e Jason Bate è veramente bravissimo nel ruolo di Mark, per un film è che riesce un'altra volta a costruirsi il suo angolo, in un certo senso è diventato un cult assoluto e se ne capisce perché, comunque un certo tipo di descrizione, un certo tipo di messa in scena è molto pulita, è molto limpida e quindi il film è seppur furbetto, chiaramente però dall'idea di essere comunque dentro la storia, proprio perché la narrazione ha proprio un senso di pienezza al suo interno, nonostante ogni tanto ci sia qualche scena che viene buttata di fuori e il film non sia riuscito al 100%, ma ripeto, riguardandolo però è un film che mi ha fatto entrare bene in questo personaggio di Michael Ceron, questa cosa da tennis vestito a cazzo di cane, diciamo questi loser per i quali io tifo sempre e nel film in realtà i nostri protagonisti lo sono, per un film che in un certo senso riesce fortunatamente ad essere sì delicato, in un certo senso a voler raccontare il tutto anche con una certa dolcezza, però in tutto questo è anche abbastanza duro e in un certo senso riesce a provocare nello spettatore reazioni inverse e quindi in questo funziona. Leggero però che al suo interno è una riflessione abbastanza profonda appunto sui teenager americani, specialmente sulle cose giuste che devono fare o quelle sbagliate, sull'irresponsabilità degli adulti. Il personaggio di June è un personaggio comunque rimasto caldo, rimasto nella storia proprio perché è calma eppure allo stesso tempo ironica e allo stesso tempo in un certo senso alternativa eppure anche scansonata. E quindi un film dove in realtà attraverso il ragionamento sul sesso, sulla maternità, sull'amicizia, sull'amore, anche sul divorzio, si fa una riflessione sulla società americana anche di provincia per niente banale in un certo senso. Quindi è un filmetto, sicuramente non è un grande film però ha una sceneggiatura fantastica, una bella regia e degli attori che se la cavano alla stragrande. Quindi un'ennesima dimostrazione che il cinema indipendente americano funziona, non è proprio nelle mie corde totale, non è cinema che io amo totalmente perché ogni tanto il racconto secondo me si sfilaccia e appunto diventa con quella furberia, con quel puzzo in un certo senso di voglia di vincere tutti i premi all'ogni costo che sembra entrare ogni tanto appunto dentro la narrazione. Però ripeto, il film rivedendolo mi è garbato più dell'ultima volta, il film è ben fatto, con un'ottima sceneggiatura, con degli attori che se la danno e con una regia che il nostro elettro, insomma, ha nel sangue, visto il grande babbo. E il link del film è qua sotto, donatevi sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il puzzante e il super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E che dire in più di questo Jonas, da ricordare la bellissima colonna sonora che va da ballo di Holly e Hinks, i suoni cute a Belle e Sebastian, la grande Cat Power, i mitici Velvet Underground, insomma, una colonna sonora che forse vale più di un film che comunque rimane gradevole e assolutamente indispensabile per chi ama un certo tipo di cinema indipendente americano inizi anni 2000.